Fino a qualche anno fa c'era un buco nero con tanti rivoli e tanti lati oscuri, ma da quando ci abbiamo messo le mani, riorganizzando strutture, uomini e risorse, quello che era un semplice ufficio legale, diventata un'avvocatura degna della regione Puglia. A spiegare e a snocciolare i numeri è il governatore Nichi Vendola. I mandati affidati a legali esterni, che nel 2008 erano ben 616, ha spiegato, quest'anno sono scesi a soli 179, una riduzione significativa che ha fatto calare le spese per compense e parcelle dagli oltre 600 mila euro del passato ai 370 mila del 2011. Un lavoro importante, ha aggiunto il presidente della regione Puglia, che certamente ridurrà gli sprechi e impatterà positivamente sui bilanci dei prossimi anni. Il 75% degli incarichi legali erano affidati all'esterno, fuori dal recinto della regione ed erano affidati con una modalità tale che non si sapeva mai quanto costava una causa. Noi siamo passati dal 75% che nel 2005 era la percentuale dei conferimenti all'esterno al 12,7%, 12,7% di conferimenti all'esterno. Sostanzialmente abbiamo costruito un'avvocatura regionale, l'abbiamo qualificata, la stiamo attrezzando, stiamo consentendo a professionalità anche molto giovani di fare un'esperienza importante e di difendere bene la regione con un risparmio di decine di milioni di euro.